Schena Assicurazioni Generali Garibaldi Un affresco teatrale che, con l'utilizzo della formula del teatro canzone, si pone ed esterna al pubblico una serie di interrogativi sulla nostra epoca, in quello che è un equilibrio sempre più traballante fra l'ansia del presente e la speranza nel futuro. Questa è, in sintesi, quello che non ho, la pièce teatrale portata in scena nella serata di ieri dall'artista a tutto tondo Neri Marco Re, ospite del Teatro Sociale di Sondrio. È uno spettacolo che, come dice il titolo stesso, parte da De Andrè e, come non dice il titolo, da Pasolini. Quindi attraverso questi due fari illuminanti si dipana tutta la narrazione che non è declinata al passato, nonostante questi due punti di partenza, ma le loro riflessioni e il loro anticonformismo si riflettono sul presente e sul futuro, quando per futuro intendo il futuro del nostro pianeta, il nostro comportamento ecologico o non ecologico e i nostri pregiudizi che si riverberano nel rapporto con gli altri. Fabrizio De Andrè e Pierpaolo Pasolini, nell'opera Reagia di Giorgio Gallione, tutta la modernità di due pensieri interpreti di una protesta civile, sempre attuale e mai fuori moglie. Pasolini si riferiva al nazismo della cultura dei consumi. Questa è una delle sue invettive maggiori, quella di rivolta al potere, che ha voluto fabbricare soprattutto un tipo di cittadino che fosse prima di tutto un consumatore e quindi maggiormente controllabile. Poi verso i cittadini che hanno il dovere di tenere alto un senso critico, cosa che molto spesso ci sfugge, perché magari siamo presi da bisogni che non sono primari, che sono legati agli oggetti da possedere, e questo ci fa abbassare la guardia sulle istituzioni, sul controllo che dovremmo esercitare. In scena, assieme a Marco Re, qui cantore del disincanto, il trio chitarristico-vocale composto da Giuwa, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini. Un'armonia impeccabile sul palco a fare da giusto corollario a un repertorio musicale che è pura poesia. Ci sono tanti dischi belli che escono ogni anno, tantissimi dimenticabili, però noi ci teniamo quelli belli e gli altri, anche se poi non ci sono più i cantautori come un tempo oppure tutti i generi che c'erano una volta, la musica non finirà mai e sarà sempre avanti, sarà sempre all'avanguardia rispetto magari alle società. La melodia è qualcosa che, partiamo dai Beatles, diciamo che sono stati i più grandi inventori di melodie, anche se non sono stati i primi, però avendo questo dono, e la melodia che se ne dica in una canzone è importantissima e a volte si sente la mancanza di grandi melodie.